Gentili telespettatori, buona giornata. Nel Movimento 5 Stelle c'è ancora ostilità verso Berlusconi. Ma loro hanno ostilità verso Berlusconi, ostilità verso Salvini e Meloni, ma loro non erano nati per combattere la casta identificata nel PD e soprattutto in Renzi. E non parlano dei PD e Renzi? Loro vanno benissimo? Ma che razza di morale hanno questi tizi qua? O non hanno morale? Come si fa ad avercela con Berlusconi e Salvini? Vabbè ce l'avete, ma voi state governando col PD, voi siete governando con quello che chiamavate il partito di Bibiano. Adesso siete d'amore e d'accordo e avete fatto un'alleanza per i prossimi 250 anni e avete l'ostilità a Berlusconi? Ma fate veramente pena, fate veramente ridere. Vabbè, intanto Vilma Moronese dice la sola possibilità di appoggiare il governo Draghi mi fa inorridire. Beh, allora perché non dai le dimissioni? Perderesti lo stipendio? Eh, insomma. Non c'è solo la parola banche a produrre sgomento, ma anche la presenza di Forze Italia, come vi dicevo. La senatrice conserva ancora nella credenza il tappo dello spumante aperto il 27 novembre 2013, quando fu decretata la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Pensate un po', questa signora qui conserva il tappo, la sentenza media, insomma, dopo le dichiarazioni di quel giudice che poi è morto, che diceva che dovevano colpire Berlusconi perché era un mascalzone lo spumante il 27 novembre. Che tristezza infinita questi Cinque Stelle, mamma mia! Anche Matteo Mantero, spesso ostile alla Lega, è duro e dice non c'è solo il condannato Berlusconi. Caro il mio Matteo Mantero, ma tu lo sai che c'è anche Beppe Grillo è un condannato, ma lo sai che è un condannato? Informati, il tuo capo spirituale è un condannato, è un, come si dice, pre-giudicato, cioè giudicato in precedenza. E mi parli del condannato Berlusconi quando il tuo elevato è un condannato? Di Battista che ce l'ha con Berlusconi il condannato, eh? Quando il suo idolo è un condannato? Insomma, mi sembra oltre la doppia morale, qui c'è qualcosa che non mi torna. Forse non posso arrivare a capire la mente dei Cinque Stelle perché è troppo lontana dai miei canoni. Lui dice, questo Matteo Mantero, non c'è solo il condannato Berlusconi, ma anche il profilo politico del governo. Dice, quando ho deciso di presentarmi alla politica l'ho fatto perché esisteva un movimento nato per difenderci proprio da quei poteri che Draghi ha incarnato. I poteri che Draghi ha incarnato? Ma che cosa avrebbe incarnato Draghi? Perché è una mostruosità fare il governatore della Banca Centrale Europea, fare il direttore generale del Tesoro, fare il governatore della Banca d'Italia significa essere dei mascalzoni? Non ho, come direbbe Lino Banfi, non ho afferreto, non ho afferreto. E poi dice, noi siamo nati con il liberismo. Chissà se realmente sa questo signore che cos'è il liberismo. Provate a chiedergli così a bruciapelo, che cos'è il liberismo? Devo andare in bagno. Poi aggiunge, se non restiamo più noi a difendere quelle posizioni. Ma quali posizioni a difendere? State governando con il PD che voi avevate indicato come il peggiore dei mali. Voi siete nati per contrastare il PD e ci state governando. E mi viene a dire se non restiamo più noi a difendere quelle posizioni. Ma quale posizioni stai parlando? E poi dice, la frustrazione di tante persone potrebbe prendere strade pericolose. Ma avete sentito cosa ha detto questo tipo qua? Se non restiamo più noi a difendere quelle posizioni, no? Le posizioni così, no? La frustrazione di tante persone potrebbe prendere strade pericolose. Ma che cacchio stai a dire? Ci vorrebbe Mario Brega, no? Ma che cacchio stai a dire? Per il senatore Savonese, no? Meglio prendere le urne che farsi complici di questi cattivi come Draghi, perché quel nome lì incute timore, quegli occhi così draghi. Vabbè, supposizioni simili sono anche Gianluca Ferrara, Alberto Airola e Matteo Crucioli. Tutta la classe dirigente è per il sì. E si sono notate le inversioni di rotta di Paola Taverna. Quando è arrivato Beppe Grillo, Paola Taverna ha cambiato subito opinione. Riccardo Fraccaro, inizialmente molto critici, si sono convinti da soli. Ecco, nel fronte degli irriducibili c'è anche il Dib, il Cechevara di Roma Nord. Altri cominciano lentamente a modificare le proprie posizioni. Nicola Morra vuole il voto su Rosso. Barbara Lezzi, quella dei 370 gradi, dice sì, ma solo a un governo elettorale fino a giugno. Danilo Toninelli prima fa fuoco e fiamme contro Draghi, poi con allegria dice ma va bene, ci sto, andiamo a vedere cosa ci propone Draghi, con la nostra valigia piena di proposte. E vabbè, insomma, è Danilo Toninelli, che cosa pretendete? Cosa pretendete da Danilo Toninelli? Su, non siate così, sento cosa dite, lasciate perdere, non criticatelo. È Danilo Toninelli, è quello che diceva di essere stato il miglior ministro della storia della Repubblica italiana. Questo già da solo basta a definire l'uomo Danilo Toninelli, un uomo direi una leggenda. Ecco, se non ci fosse Toninelli bisognerebbe inventarlo. Ci vorrebbero 18 ministri, tutti cloni di Toninelli, tutti con gli occhiali, i capelli con i riccioli, tutti insieme dicono siamo i migliori ministri, no? È proprio da questo che Conte diceva io ho i migliori ministri, ho la migliore squadra del mondo. E caspita, un fuoriclasse come Toninelli? Eh, ci mancherebbe. Toninelli era come Maradona nel calcio. Toninelli è il Maradona dei ministri. Ecco, sì, Toninelli è il Maradona dei ministri. Se vi è piaciuta questa, a me sì. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti. Grazie.